Nelle scelte a basso impatto ambientale di economia e finanza c'è la chiave di volta per salvare il mondo dall'inquinamento, ma ancora pochi lo sanno e per questo proprio economia e finanza nell'era del no carbon è il tema scelto per i quattro giorni del quattordicesimo forum internazionale per il giornalismo ambientale organizzato dal 2 al 5 novembre a Firenze e l'arderello dall'associazione culturale Green Accord con la regione toscana e il ministero dell'ambiente. I lavori si sono aperti a Firenze nella sede della regione, efficientamento energetico ed economia circolare, ha detto l'assessore all'ambiente Federica Fratoni, sono prioritarie per il futuro della Toscana che in materia di energie ha anche una marcia in più. In un paese nel quale ovviamente le risorse tradizionali fossili non ci sono ma abbondano invece quelle rinnovabili, la Toscana ha un valore aggiunto con la risorsa geotermica che verrà ampiamente indagata nelle prossime giornate. È un'opportunità che ha già dato risultati fondamentali perché oltre il 30% dei consumi finali della nostra regione sono coperti da fonte geotermica. Tanti gli esperti di fama nazionale e internazionale e i giornalisti presenti al forum, circa 80 provenienti da tutto il mondo insieme a 20 giovani cronisti under 35 coinvolti in un progetto di scambi finanziato dal Ministero degli Affari Esteri, Orizzonte Finale, la corretta informazione e la salvaguardia della natura. Sono qui perché sono tutti innamorati della Casa Comune, come direbbe Papa Francesco, quindi il nostro desiderio e quello loro è di diffondere, sensibilizzare tutte le persone, quindi gli ascoltatori, i loro lettori, su questa grande preoccupazione che è la cura della Casa Comune perché la terra geme e sta soffrendo. La cura per alleviare le sofferenze dell'ambiente, secondo i partecipanti al forum, sta in scelte politiche ed economiche alternative alle vecchie risorse energetiche fossili proiettate sulle riconversioni industriali e sugli obiettivi dell'Accordo di Parigi sul clima. Il mondo politico stenta a seguire, vedete come quello che è successo negli Stati Uniti d'America che potrà danneggiare molto l'applicazione di questo accordo, ma il fatto nuovo positivo è che il mondo dell'economia e della finanza ha compreso che qui siamo di fronte non ad aggiustamenti ma a un punto di svolta nel mondo economico. Un punto di svolta per una sfida che si gioca a livello mondiale in cui anche la Toscana, con i quattro giorni di forum, offre un contributo.